Assessore Marco Marra, questa mattina ha la firma di un importante protocollo di intesa che interesserà diversi comuni e riguarderà anche le aree marine. Spieghiamolo nel dettaglio. Sì, è un importantissimo protocollo di intesa tra alcune aree protette costiere, marino costiere d'Abruzzo. C'è appunto l'area marina di Torre del Cerrano e ci sono le riserve del Borsacchio, la riserva di Punta Derci, la riserva dell'Ecceta di Torino di Sangro e la riserva di Marina di Vasto. Noi già apparteniamo a una rete che si chiama Adria Pan per una collaborazione all'interno della progettazione. Questo però è un protocollo che stancisce delle linee guida, dei punti strategici su cui operare insieme per la tutela e la valorizzazione della nostra costa, che è unica nella sua diversità ed è assolutamente importante valorizzare. Se facciamo rete riusciamo maggiormente a progettare insieme e quindi ad avere più opportunità per tutta la costa abruzzese. Grazie a tutti!